Signori The Wire, film piuttosto controverso, molto 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 bello, interessante, lo trovate su Prime Video, è un incrocio tra l'erotico, il drammatico, senza fare spoiler è difficile definirlo, voto 8, a metà film esplode il film ed è una cosa incredibile, molto molto bello, consigliato, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un like, ciao ciao!